I quindici misteri del Rosario recitati in confraternita In un vecchio manoscritto mai aperto perché ancora chiuso con la cera lacca, la Madonna del Rosario aveva dato un anello di fidanzamento spirituale al suo devoto, il beato Alano della Rope, e questo anello lui l'aveva murato a Rostock, dietro un alto rilievo. Ancora oggi esistente, della Madonna del Rosario presente nel cortile dell'Università. Il vecchio manoscritto è avvoltolato in una cassetta polverosa e si trova nella biblioteca di Santa Sabina a Roma. La pergamena proviene dal convento di Rostock ed è scritta di proprio pugno dal beato Alano della Rope, il dominicano del quindicesimo secolo che scrisse il libro del Rosario, dove scrive di aver ricevuto dalla Madonna del Rosario l'anello e la collana fatti dei suoi capelli, diventando così il novello sposo di Maria, ossia un novello San Giuseppe, titolo che la Madonna dà ai suoi santi sacerdoti. Il beato Alano riceve dalla Madonna una collana di capelli con 50 globuli dorati, 50 gemme e 50 stelle, e l'anello di capelli al dito con 15 gioielli. Ho ricevuto da Maria, scrive il beato Alano, lo scrigno delle verità evangeliche, la chiave di contemplazione dei quindici misteri del Rosario. Ma ora che devo partire per Duai e Zuolle, devo nasconderle bene, non posso portarle in questo viaggio lungo e pericoloso, viaggio periglioso e pieno di briganti. Devo trovare un posto inaccessibile, nessuno dei professori di Rostock deve sapere che ho ricevuto dalle mani di Maria Santissima la collana dalle 150 gemme e l'anello del matrimonio mistico con Maria, fatti dei capelli della Regina del Cielo. Ho sentito nel cuore, da parte della Madonna, di fare così, di nascondere lo scrigno nell'alto rilievo della Madonna del Rosario, che ho fatto appendere sul muro esterno dell'Università di Rostock. La mia camera è proprio dietro l'alto rilievo, farò un foro e lo murerò. Sono certo che nessuno andrà a investigare là e riprenderò la cassetta al mio rientro a Rostock, alla fine dell'estate. Mi domando però perché mai la Madonna mi abbia chiesto di murare lo scrigno. Non me l'ho mai detto negli anni precedenti, quando partivo per le vacanze estive, e poi solo tre mesi dovrò stare fuori, mentre lei mi ha parlato di un lunghissimo viaggio. La Madonna del Rosario aveva detto così ad Alano della Ruppe perché non sarebbe più tornato nella sede universitaria di Rostock. Sul finire dell'estate del 1475, egli fu chiamato al cielo, all'età di 47 anni, mentre si trovava a concludere le vacanze nel convento domenicano di Zuolle. La Madonna del Rosario nella cella di Rostock gli stava preannunciando la morte, ma Alano non aveva compreso che doveva lasciare questo mondo. Fu solo per scrupolo che egli inviasse una lettera su pergamena a un suo fidato amico certosino di Erines, il priore Laurentius Muskeselius, per andare a recuperare nell'università di Rostock, nel caso egli fosse impossibilitato a tornare, il prezioso scrigno e quei preziosi monili. Gli li potessi inviare a Zuolle, dove era diretto, ma quella pergamena, per un caso strano della vita, non fu mai recapitata al priore Muskeselius e rimase arrotolata nel convento di Rostock e dopo la sua soppressione fu portata tra i manoscritti della biblioteca, ancora sigillata con la cera lacca nella curia dei Domenicani a Santa Sabina in Roma e vi rimase senza che fosse mai aperta. passarono i secoli e nonostante la vecchia università di Rostock si fosse ingrandita, quell'alto rilievo rimase sempre lì al suo posto, proprio dove l'aveva posto il professor Alanus de Ruppe e senza che mai nessuno sospettasse che in esso fosse stata murata la chiave dei misteri del Rosario. Una voce, l'amato mio, da qui presto andiamo via. Vieni presto, amica mia, vieni con me. È finito l'inverno, la pioggia non ritornerà, fra i campi i fiori sbocciano e le colombe volano. Rinasce un nuovo mondo. Indietro, Alano, mai più ritornerà. Il suo segreto nessuno troverà. La chiave dei misteri fra i muri resterà, ma non per molto attenderà. Amica mia, dice il beato Alano, non capisco perché devo lasciare questo anello dov'è. Mi hai chiesto di partire senza, anche se l'ho portato sempre con me. E ancora adesso non capisco perché mi hai chiesto questo, come se non sapessi che il mio viaggio sarà breve e tornerò in quel convento a riprenderlo. Non discuto, ormai mi fido di te. Tra pietre e muri nessuno sa cosa c'è. Ho scritto in questa lettera dov'è, ma presto tornerò a riprenderlo da me. Riprende il beato Alano. Se sarete uniti a Gesù nella Santa Comunione e alla Madonna nel Santissimo Rosario, vedrete fiorire in voi il primo albero di primavera, il mandorlo dell'anima, che coi suoi bianchissimi fiori vellutati, vi annunzierà l'imminente primavera della vita, sentirete la carezza dello scirocco, preludio della fine del gelo, dei mesi invernali e più grigi. Se pregherete ogni giorno Maria con la Sua Santissima Corona, sbocceranno i fiori dei sogni di Maria per voi, perché ogni granello dell'ave che voi reciterete legherà ogni vostro sogno alle ali dei sogni di Maria e volerà davanti a Dio Padre. Il Rosario è il segno del comando della Regina che Dio Padre ha dato a Maria ed ella ha donato ad ogni suo rosariante per fare del mondo un novello paradiso terrestre. La Madonna ama così tanto coloro che la salutano col Rosario, più che se tutti i granelli di sabbia, i fili d'erba e le foglie degli alberi si trasformassero in persone che ci amassero. Fate della vostra vita la più bella e meravigliosa avventura pregando le tre corone del Rosario in confraternita. Non finirete di scrivere le meraviglie che vedrete con i vostri occhi. grazie a tutti i nostri 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 occhi. Grazie a tutti.